La scantola tra campo e mercato, i bianco verdi sfideranno sabato a Molfetta alle 18.30, infatti la gara del Del Mauro è stata anticipata con i lupi che, reduci dall'importante successo contro Angri, seconda della classe, proveranno ad ottenere un'altra importante vittoria per continuare a far sognare i loro tifosi. In attesa di recuperare Sanchez, ancora infortunato, si sogna sempre Matteo Ambrosini. Nato a Castelfranco Veneto, Ambrosini ha mosso i primi passi a Roma, maglia di Frascati e dell'Eurobasket e si è meritato la convocazione della nazionale Under-15. De Roma ha treviso nella giovanile della mitica Benetton, arrivato a un passo dallo Scudetta alle finali nazionali Under-16, realizzando 8,2 punti e 6,7 rimbalzi di media. Nel 2018 ha vestito la maglia della benacquista assicurazione Latina, nell'estate 2019 è passata a Rimini in Serie B, quindi ritorna a Latina in A2. Lo scorso anno la firma con Ancona è attualmente in forza a Taranto, è lui l'obiettivo di mercato dei bianco verdi.